Continua a piccoli passi il riavvicinamento tra il Taranto e la Lega Pro. Nella riunione di ieri pomeriggio il Consiglio federale ha riammesso la Casertana mentre ha bocciato Pavia Rimini e Paganese. Per gli azzurri stellati però c'è ancora la strada che porta al ricorso già annunciato al Collegio di Garanzia. Dato per certo il ripristino del format 60 squadre, con le rinunci di Martina, Sporting, Belinzago, Lanciano, i posti per rientrare in Lega Pro sono 11, anzi 12, dato che la Caronnese ha rinunciato alla riammissione, rilanciando le ambizioni del campo d'Arsego. Il termine ultimo per completare l'organico è fissato per le ore 19 del prossimo 26 luglio, data entro la quale bisognerà inviare la domanda di ripescaggio completa dei 250 mila euro di fondo perduto e dei 350 mila euro di fiducia. In casa Taranto, come rivelato dal presidente Zelatore, trapela un cauto ottimismo. Allo stato attuale delle cose, ritornare nel calcio che conta dopo quattro anni di purgatorio e ne dilettante è tutt'altro che impossibile. Oggi il primo allenamento della squadra allo Iacovone. Porte aperte per i tifosi, curiosi di conoscere i volti nuovi di una squadra, però ancora tutta da assemblare.